Allora che diamo? A me ragazzi mi è preso un buo allo stomaco, sarà che sono un chimico, mi hanno riporto un'erbina da Asteri, andiamo a fare la ricetta. Lunga vita il re, pigliare il pane da toste e lo lasciare in un piatto una giornata a raffermare. Poi in un tegame come quello di Tumai, di Tumai vuol mettere a estruggere il burro, vuol fare estruggere. Allora una volta astrutto il burro vuol fare l'ardellato. A proposito io l'8 settembre sono a Lecce, cioè la festa leccese, il 6, 7 e l'8 settembre, domenica 8 c'è Toscana per prima pagana. Poi a questo punto della ricetta, vuol mettere i toste e si deve impregnare. Vuol dire che vuol schiacciare in modo che si impregnino il burro, vedete ma ne hanno belle torare. Ora vuol prendere il burro da raidi e vuol andare a rimastagnare in questo sopra. Vedi, va a spermao, va a spermao. Banana di leggello, autentiche banana di leggello, sanno una sega a Firenze come si fa a fare le banane. Allora, le si hanno a mettere nel panino il nostro pane da toste e si va a rifornire sopra una adagio a quell'altra, accanto. La è classe, eh? Che classe? Che classe? Questa è la merenda dei campioni, mi fanno rivedere che gli fanno mangiare l'ampredotto. Questo è il futuro, il futuro. Pane e banana, ma che scherzi, ma sanno una sega a Pravo e si va a schiacciare. Guarda che profumo, sento un'acqua in bocca, che spettacolarità. Questo è un perso, nel senso lo mangio solo io, quando sono in chimica mi fanno un perso, un panino, immagino, questo è immagino. Quando tu sei in chimica, io ci consiglio anche la marmellata di mirtilli, ti sa poi bucarlo il stomaco. Vai, ci siamo quasi, eh? Allora, per fare immagino, ripeto gli ingredienti. Burro, burro, daraidi e banana. Capito? Mi raccomando, fallate. Ah, che spettacolo. Sa una sega a Freddy Mercoli, io mi si faceva mangiare. Tipico, qui, qui, tenne sia bestia, in Toscana. Mi fanno rivedere qui. Prova boccone numero uno. Ci sento, ci sento, ci sento in mare. Via, i cani, che ci fai? Che l'ha chiamato? Vai, chiudegli la porta. Allora, ci sento, dicevo, ci sento di molto burro, ci sento. Bono, guarda, uno ti dovesse dare un giudizio. Otto, sì, Otto. Ci senti il sapore di burro, ma tu lo senti proprio questo burro profumato, questo burro lardellato. Terza festa leccese, il 6, il 7 e l'8 settembre a Leccio. Domenica 8 settembre, Toscana Maremma Maiala Live. Ingresso gratuito bucaioli, vi s'aspetta.